Ciao da CIG di Crypto Investing Guide e benvenuti alla terza parte del corso base sulla blockchain. In realtà in questa terza parte introdurremo il discorso del wallet e dell'exchange, passi salienti necessari per utilizzare le criptovalute, archiviarle, gestirle e effettuare anche operazioni di scambio valute e quindi anche di trading. Il wallet per bitcoin è sostanzialmente un portafoglio non solo di bitcoin ma anche di altre criptovalute. Ogni criptovaluta ha un suo wallet dedicato e spesso nascono anche dei wallet più generalisti, nel senso che contengono più criptovalute e quindi più modalità e possibilità di fare lo stock, il vault, presso questi software che si salono direttamente sul computer. servono praticamente per tenerli al proprio sicuro. Naturalmente servono anche per ricevere e inviare pagamenti di criptovalute diverse ed è necessario quindi possederne uno se si vuole investire su queste tipologie di prodotto. Per aprire un wallet, per esempio per bitcoin o anche per altre criptovalute, è necessario scegliere il tipo di portafoglio. Può essere desktop, cioè si installa come qualunque programma per computer, mobile, ossia per android o per ios, ossia per cellulari, via web, ossia si apre direttamente tramite una pagina di internet e si accede tramite le proprie credenziali. O addirittura su carta, nel senso che si possono archiviare i dati di accesso e di sicurezza per eventuale anche recupero direttamente in modo cartaceo. Quindi sempre attenzione, attenzione, attenzione al mantenimento della sicurezza dei propri dati di accesso del proprio wallet e del proprio portafoglio. Per i dispositivi mobili, a differenza di quelli software per pc, si ha il vantaggio che si può accedere anche tramite QR code o la funzione NFC, ossia la possibilità di utilizzare il contatto diretto con i POS degli esercenti, dal proprio telefonino e dal proprio smartwatch, naturalmente che sono in possesso di questi strumenti, di questo chip NFC, per abilitare il pagamento della criptovaluta diretta verso l'esercente che ha il POS. Per quanto riguarda i portafogli via web, si accede tramite connessione internet, mentre se si predilige la formula cartacea, attraverso un sito si genera un nuovo indirizzo e questo codice viene stampato materialmente su carta. Molti utenti scelgono di aprire un portafoglio per bitcoin tramite hardware. Sono dei dispositivi offline molto affidabili e infatti mantengono separate, questa è la differenza che andremo adesso a analizzare e visualizzare, le password dagli address separati, dei dispositivi connesse a internet. Quindi sono adatti per chi possiede e generano un grande volume di bitcoin e soprattutto per una maggiore sicurezza. Questi naturalmente sono dei dispositivi più sicuri rispetto a quelli via internet o online. Ebbene, su questa analisi abbiamo concluso la parte descrittiva, adesso andiamo a visualizzare e a vedere nel dettaglio alcuni esempi di queste tipologie di wallet per il vostro uso. Nei dettaglio. Andiamo a definire adesso il wallet exchange che ritengo più utile per chi vuole fare anche trading oltre quello di fare il cassettista, cioè accumulare criptovalute all'interno di diversi portafogli, di diversi indirizzi all'interno dello stesso exchange. Binance exchange trovate nel mio sito www.cryptoinvestinguide.com, la sezione della lingua inglese Investing Guide, trovate exchange, Binance exchange, guida per principianti. Non ho fatto la traduzione in lingua italiana, ma potete comunque tramite il software installato tradurla se non riuscite bene a leggere l'inglese e con la guida per principianti potete benissimo cominciare a capire che cos'è Binance. Binance è il più grande exchange al mondo, in termini soprattutto di volumi. In esso potete cambiare qualunque tipologia di criptovaluta, potete comprare i Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Binance, ci sono centinaia di criptovalute su cui fare anche trading e quindi effettuare una piccola speculazione soltanto in criptovaluta. Quindi non è utilizzabile la possibilità di convertire in euro o dollari e in quel caso dovete andare presso altri exchange come Coinbase o Changely o altri exchange slash broker come Kraken o altri o Bitstamp. In generale Binance per il momento, almeno in Italia, è utilizzabile soltanto cripto con cripto. Quindi convertite i Bitcoin, una volta comprato lo depositate all'interno di Binance e qui trovate una guida descrittiva. Cliccate qui, su qualunque immagine vi riporto subito alla registrazione, vi inserite, abilitate naturalmente il fattore di doppia sicurezza, cioè tramite Google Authenticator, software che installate nel vostro telefonino e vi genererà un codice che si aggiorna ogni 30 secondi, o scusate ogni minuto, e che vi permette di rendere più sicuro l'apertura del software. Binance, naturalmente, come potete vedere, ha un mercato e potete oprire a mercato con varie modalità. Diverse criptovalute, come vedete ci sono ADA, quindi Cardano, anche sconosciute o meno importanti. E trovate l'elenco, quindi, di tutte le monete scambiate all'interno del sito. Potete anche scaricare l'applicazione e questa applicazione vi permette di aprirla come un qualunque programma per computer. Esiste anche l'applicazione per telefonini e quindi monitorare o fare anche qualche operazioncina direttamente da smartphone. L'indirizzo, naturalmente, portafoglio per ogni moneta è diverso. Assicuratevi di fare deposito solo per la moneta specifica al portafoglio che compare in deposito e il prelievo, naturalmente, deve essere effettuato presso un vostro altro indirizzo, che può essere anche di un hardware fisico. In questo caso, ricordate che i soldi sono presso l'exchange, non sono presso un vostro wallet fisico o del computer o di un dispositivo hardware separato. Quindi, utilizzatelo per fare del trading, ma non per stoccare per molto tempo la vostra criptovaluta. Questo che sia ben chiaro a tutti. A meno, questo è un mio parere, o come farei io. Potete anche fare trading, quindi trovate anche, sia nella pagina che nel soft, la possibilità di vedere e visualizzare il grafico con le stesse funzioni di TradingView, quindi un'ottima piattaforma, e potete selezionare la vostra criptovaluta da comprare. Se, per esempio, avete Bitcoin, vedete qui c'è un bilancio di Bitcoin, potete con questo bilancio comprare Ethereum. Una volta comprati potete anche venderli. Quindi, ricordiamo che non si tratta di un broker che effettua contratti per differenza, cioè comprate il contratto, voi comprate fisicamente l'unità, il collaterale, la moneta base, l'Ethereum. Il fondamentale da voi viene acquistato e viene depositato nell'indirizzo di Binance che vi rilascia un vostro proprio indirizzo di Ethereum. Questa, per esempio, è l'applicazione, cambia il colore, ma l'interfaccia più o meno è la stessa, avete il mercato dove poter fare le operazioni, quindi qui buy. Io ho scritto naturalmente una guida, andate nel dettaglio a leggerla per visualizzarla meglio. E cosa dire, esistono anche i wallet di Bitcoin, di Ethereum separati. Io nel dettaglio voglio farvi vedere questo sito, l'Atomic Wallet, o Atomic Swap Wallet. È un multi-wallet dove potete contenere tutti gli indirizzi di tante criptovalute, come potete vedere anche qui nella descrizione. È abbastanza interessante il fatto che potete scaricare l'applicazione per Windows, Mac, Ubuntu, Debian, Fedora e una volta scaricata potete aprirla per visualizzare ciò che vi più interessa. Potete spostare qui, in questo Atomic Wallet, i vostri cripto coin. Andiamo ad aprirlo, così potete vedere in dettaglio il programma. Io già l'ho scaricato, potete fare lo stesso anche voi. Come vedete anche hanno aggiunto da poco il supporto a EOS, che è una criptovaluta che in precedenza era un token di Ethereum. Inserite la vostra password per entrare. Ecco, come ben potete vedere i wallet sono questi qui. Voi avete un indirizzo, questo è il vostro indirizzo pubblico. Non clicco naturalmente per evitare altri ulteriori dettagli, ma comunque questa naturalmente serve per inviare. Poi c'è l'Atomic Swap. Che cos'è l'Atomic Swap? L'Atomic Swap è la possibilità di inviare Bitcoin. Voi sapete che uno invia Bitcoin a un indirizzo di un altro proprietario di un indirizzo Bitcoin. E' stato sviluppato questo protocollo che permette l'invio di Bitcoin che vengono convertite automaticamente in un'altra criptovaluta. Per il momento potete farlo Bitcoin con Litecoin e Quantum, che supportano l'Atomic Swap. Quindi voi se siete possessori di un Bitcoin potete inviare direttamente all'indirizzo wallet di Litecoin della persona che dovete effettuare l'invio. Quindi è molto utile perché supera il problema dell'exchange, cioè dover convertire Bitcoin prima in Litecoin e una volta depositati nell'indirizzo di Litecoin inviarli all'indirizzo di Litecoin. Quindi è molto utile un utilizzo di questo tipo. Naturalmente Atomic Swap, scusate, Atomic Wallet possiede anche la sua criptovaluta che si chiama AWC. AWC, l'Atomic Swap, naturalmente avrete un vostro indirizzo, avrete un vostro ammontare. Ecco, se vi interessa ricevere gratuitamente, prima del lancio, 25 Atomic Wallet Coin, che è la moneta proprietaria del wallet, dovete fare l'head drop. Per ricevere l'head drop dovete inserire un promo code. Attenzione, il promo code non potete generarlo voi, lo dovete inserire. vi indicherò direttamente il codice di riferimento promozionale che vi permetterà di ricevere 25 AWC in modo del tutto gratuito. Li troverete naturalmente in descrizione alla fine di questo video dentro la pagina YouTube. Questo naturalmente è un wallet di tipo hardware installato nel vostro dispositivo, nel vostro computer. Avete naturalmente la possibilità di settaggio, recuperare le password, vecchie password, le chiavi private, inserendo la vostra password che creerete all'inizio dell'installazione di AtomicWack e poi importare. Withdraw from external wallet to Atomic with a private key all spendable coin except network fee will be sent to your Atomic address. Come ben vedete, potete effettuare anche il prelievo. Naturalmente, per poter procedere, dovete inserire la vostra chiave privata. Bene, chiudiamo adesso l'Atomic Wallet e passiamo all'ultima principale descrizione di wallet. Il wallet fisico, quello separato, che separa le password dagli indirizzi. È una chiavetta, ma ce ne sono di diverse tipologie. Il sito più importante che volevo mostrarvi è il Ledger Live o per la prelicisione nel sito ledger.com. Nel ledger.com trovate diversi prodotti e in particolar modo vi consiglio Nano S che potete acquistare direttamente nella piattaforma della Ledger circa 100 euro oppure comprarlo tramite altri canali di vendita che magari vi permettono di riceverlo in modo molto più celere. Contiene diverse criptovalute che andremo a visualizzare. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum Classic, Litecoin, Dogecoin, Zcash, XRP, Dash, Stratis, Komodo, Arc, Expense, Ubic, Vertcoin, Biacoin, NIO, Stellar, Quantum, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la cosa interessante di questa criptovaluta? Che se ne inseriscono sempre di più nuove addirittura vediamo anche Nano, Tron e in generale la Ledger Nano S che è quella principale vedete che contiene quasi tutte le criptovalute dovrebbe avere il supporto anche per IOTA che è una criptovaluta che ha un entangle come tipologia di blockchain completamente diversa dalle principali criptovalute che usano e ha delle modalità basate sul discorso dell'internet of thinking cioè l'internet of things, delle cose ed è molto interessante per degli sviluppi futuri in ramo industriale, tecnologico, eccetera. Va bene, naturalmente per fare questo dovete comprare la chiavetta la chiavetta fisicamente conterrà una password di accesso e da questa Nano S potete vedere la chiave di acquisto il wallet si chiama Alive è stato da poco cambiato in origine era un'altra tipologia di wallet ecco e qui avrete il montare complessivo di tutte le vostre criptovalute inviare fondi, ricevere i fondi il manager serve per gestire le criptovalute che volete installare nella chiavetta la chiavetta, ricordo, non può contenere tutte le criptovalute che avete visto contiene soltanto le principali ne può contenere 5, 6 o 7 in base al carico dei dati che deve inserire nella chiavetta la chiavetta si collega tramite la porta USB al vostro computer e ho preparato anche nel mio sito una guida a questo a questo tipologia di portafoglio è in italiano come potete configurare il vostro dispositivo con questa procedura e trovate anche il video che è inserito e con questo diciamo sono le principali modalità di utilizzo dei wallet naturalmente potete chiedere informazioni aggiornamenti o vostri pareri o consigli per migliorare o approfondire le tematiche appena indicate in questa terza parte del microcorso sulla blockchain sul panorama delle criptovalute e spero di esservi stato di aiuto un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto da CIG di Crypto Investing Guide grazie e alla prossima grazie a tutti